Una delle tematiche più ricorrenti negli studi sulla digital debt è quella del rapporto fra reale e virtuale, cioè l'idea che noi moriamo ma una rappresentazione di noi rimane nel mondo virtuale. Ora, il fatto che il rapporto fra reale e virtuale sia vissuto in una maniera problematica nella società contemporanea è abbastanza ricorrente, nel senso che tante volte, anche nei discorsi più di senso comune che circolano sui media a proposito del nostro rapporto con le tecnologie digitali, si sente dire che ci sono dei problemi nel fatto che noi persone reali ci relazioniamo gli uni con gli altri attraverso dei nostri avatar, delle nostre rappresentazioni, le immagini che mettiamo sui social network, ci innamoriamo delle immagini di qualcuno e poi magari scopriamo che questo qualcuno non è come si rappresentava. Ecco, sulla base di questa visione del concetto di virtuale, che come si può capire non distingue in realtà fra reale e virtuale, reale e virtuale sono due elementi della nostra vita quotidiana. Ci dobbiamo chiedere quali sono le nostre esperienze umane che abbiamo sempre portato avanti nella nostra vita quotidiana, che i media digitali e le tecnologie digitali ci consentono di fare oggi in maniera potenziata, in maniera magari appunto più semplice che in passato, è il fatto di rappresentarci attraverso delle immagini, dei testi, dei discorsi e prendere queste immagini, questi testi e questi discorsi molto sul serio, pensando che hanno a che vedere con quello che noi siamo, è qualche cosa che noi abbiamo sempre fatto. Ci troviamo qui in un atelier di artisti che producono sculture, che producono dipinti, che recitano, che scrivono poesie e queste sono tutte forme di rappresentazione del nostro modo di essere, della nostra umanità, che sono sempre esistite nel nostro mondo e con le quali ci siamo sempre confrontati per chiederci chi siamo. Ecco, il tema del chi siamo è un tema molto importante nell'ambito della digital debt. Nel articolo di Francesco Ruggero, Mattia Plazio e Juan Carlos De Martin, comparso sul numero di giugno del 2018 di Digit Cult, proprio appunto sul tema della morte digitale, c'è proprio un passaggio che mi è rimasto impresso, dedicato al tema dell'identità, in cui ci si pone il problema del passaggio, cito quasi a memoria, dal nostro io reale, unico e indivisibile a quello disperso fra mille rivoli del mondo digitale. E che cosa questo comporta? Nella nostra costruzione della nostra identità, dell'immagine di noi e nel modo in cui gli altri ci percepiscono e a loro volta costruiscono la loro identità. In semiotica, in realtà, questa opposizione fra l'io reale e l'io virtuale, frutto di rappresentazioni, è un controsenso, perché in semiotica vale sul tema dell'identità una affermazione di un linguista francese, di nome Emil Banveniste, che diceva che ego è colui che dice ego, cioè diceva che l'ego, ciò che noi siamo, è frutto di discorso, è frutto del fatto di dire chi siamo attraverso la parola, attraverso delle forme di rappresentazione, per l'appunto, del nostro io. Il bambino nasce senza sapere chi è e poi i suoi genitori glielo dicono e si rivolgono a lui in un determinato modo e poi gli si rivolgono in un certo modo i compagni di scuola, i professori di scuola e poi lui cresce e parla con i suoi genitori e costruisce la sua identità attraverso i discorsi che porta avanti su di sé e che gli altri portano avanti su di lui, perché il tema dell'identità in semiotica è qualche cosa di costruito insieme, è un discorso in cui un mittente e un ricevente si parlano e mettono in comune certe visioni, certe rappresentazioni di sé che determinano le reciproche identità. Identità è ciò che io sono ma anche ciò che tu sei nel riconoscere che io sono in un certo modo. Nella digital debt questa questione della costruzione dell'identità attraverso forme di rappresentazione naturalmente è rilevante perché c'è l'idea che avendo consapevolezza della morte possiamo costruire dei discorsi e delle rappresentazioni di noi stessi attraverso per esempio le immagini che mettiamo nei social network, attraverso i discorsi che costruiamo sui blog o le tracce che lasciamo nel mondo digitale che dicono agli altri come vorremmo essere e come vorremmo essere ricordati. Qualcuno dice che questo nel mondo del digitale avviene in maniera patologica perché Facebook viene definito il più grande cimitero del mondo in quanto i profili delle persone che muoiono, rimangono e molti continuano a consultarli, a frequentarli, addirittura a scrivere sopra questi profili quasi per costruire un dialogo con queste persone. Io ritengo che sia normale che tutte queste cose succedano. Non ritengo strano il comportamento delle persone che pensano con consapevolezza all'immagine che vogliono lasciare di sé attraverso la loro rappresentazione digitale. lo pensano in vita perché la morte è parte della vita e il fatto di sapere che è un limite della vita ci permette di ragionare su come rendere significativa la vita e su come rendere significativa la nostra rappresentazione di ciò che significa vivere e quindi pensare di lasciare traccia di noi con questo genere di discorsi è una cosa umana, molto naturale. lo abbiamo sempre fatto con altri mezzi di comunicazione, la scrittura, i libri oppure anche solo la parola, i discorsi orali e adesso c'è la differenza che tutto questo rimane nella memoria delle macchine. Grazie a tutti.